L'hotel La Sirenetta si trova al centro di Tortoreto Lido, una delle più belle ed esclusive località della costa adriatica, a pochi chilometri da San Benedetto del Tronto. L'hotel gode di una splendida posizione di fronte al mare e alla pista ciclabile, tra palme, pini e giardini. Dispone di 23 camere e 3 family room, tutte climatizzate e con connessione internet. Aria condizionata, tv satellitare, frigo bar, cassaforte, telefono diretto, doccia, phone e alcune con balcone vista mare. Il ristorante interno con vista panoramica propone specialità locali di pesce e carne e contorni al buffet, accompagnati da vini regionali abruzzesi. Al piano terra sono il bar gelateria e la terrazza, che danno sul lungomare e sulla via centrale della città, particolarmente animate in sera, con numerosi negozi, ristoranti e mercatini. La spiaggia privata dell'hotel è di sabbia finissima, ed è attrezzata con ombrelloni, sedie e sdraio, lettini, spogliatoi, doccia, angolo ombreggiato e gioco bocce. La sirenetta offre anche appartamenti fronte mare a 30 metri dall'hotel, dotati di angolo cottura, clima, cassaforte, tv sat, frigo, bagno con phone e doccia idromassaggio.